Musica Oh carina Musica Ciao a tutti e a tutti Allora non ho tanto tempo per registrare questo video Quindi dovrei fare di fretta Sono appena uscita dalla doccia E che cosa succede? Succede che da un po' di tempo a questa parte Ho un punto posta se così lo vogliamo chiamare C'è un indirizzo che sta sotto tutti i miei video Dove potete mandarmi delle cose E spedirmi le vostre letterine Perché me l'avete sempre richiesto E io ho deciso di darvi questa possibilità Perché so che ci tenete E io adoro tantissimo leggere le lettere Però da quando ho questo punto posta Tutte le volte che arrivo a vedere se è arrivato qualcosa per me Ed è arrivato qualcosa Lo apro lì subito al momento Dico oh mio dio voglio vedere e leggere aiuto Però l'ultima volta che sono andata a ritirare le lettere C'era la lettera di questa ragazzina che si chiama Marisa A cui io mando un bacino Che mi ha chiesto se potevo iniziare a fare dei video Dove io leggevo le vostre lettere nei video O aprivo i vostri regalini nei video E quindi adesso le apriremo insieme Ovviamente le lettere non ve le leggerò Perché sono cose private mie e vostre Però magari in qualche pacchettino Ci sono anche delle cosine che ho da farvi vedere E così visto che so che mi piace Comparire nei miei video Anche in piccola parte Visto che lo fanno un sacco di youtuber Ho deciso di farlo anche io Ogni volta che vado lì e ci sono dei pacchi Io li apro nei video Incominciamo Attenzione c'è un qualcosa Ha un braccialettino con scritto love Che sto indossando all'istante subito adesso Perché è meraviglioso E vediamo chi è la dolce persona Nooo Oddio che cosa carina Ci sono un sacco di Harry E io e Harry E la ragazza si chiama Francesca Grazie Francesca per questo braccialetto Ragazzi io non so aprire le lettere Questo è un disagio No ragazzi Una spilla di Harry Ragazzi Due lettere ho aperto E due contenevano cose di Harry Questo è un disagio Oddio un artista Oddio sono due Alice e Camilla Che hanno fatto questa cosa Hanno scritto tipo Scolapasta ciao qua copriamo Perché ci sono i numeri di telefono E hanno fatto un sacco di artismi Che cosa carina Oddio questo è bellissimo È veramente bellissima Oddio questa è stupenda Da parte di Laura Grazie Laura Un grande bacio E la foto è bellissima Federica ha un canale youtube Che si chiama Federica Se lo trovo Lo metto qua sotto Così potete andare a vedere Il canale youtube Della ragazza che mi ha scritto Questa cosa molto carina No ragazzi Questa cosa è bellissima Ma è fatto tipo Cioè i capelli sono fatti Con l'acquarello C'è scritto C'è scritto Michele se vedi questa foto Per Sofì Non stracciarla Ciao Da parte di Giulia E poi vabbè C'è la letterina di Giulia Che ovviamente Mi leggerò dopo in privato Grazie mille Giulia Gaia ha spedito Questa lettera molto carina Tutta scritta a mano E niente La leggerò dopo Grazie Gaia Un bacino Poi abbiamo Jennifer Grazie per i sorrisi Grazie per le emozioni Grazie per essere così speciali Grazie di tutto Ma siete carini Grazie a voi Anche se è la mia preferita Te la cedo Oh mio dio Questa Ti giuro La terrò con cura Dietro il cellulare Vabbè Mi ha scritto L'indirizzo di Harry Styles Alona E poi mi ha scritto Me l'ha dato una mia amica Quindi non ti arrabbiare Come se hai sbagliato Va bene Lo terrò con cura C'è tipo Questa persona ha disegnato Harry Con un costume da unicorno Stupendo Questa ragazza si chiama Sofia Mi ha parlato un po' di lei Io amo quando mi parlate di voi Perché mi piace Leggere le vostre cose E poi mi ha scritto Fin da quando hai iniziato A postare video su Youtube Mi sei entrata nell'anima Portando una grandissima Positività Hai fatto tutto Con una piccola chiave E mi ha messo una chiave Con un cuore E mi ha scritto anche il suo Instagram E mi ha scritto anche il suo Instagram E tutte le sue cose Comunque lo trovate Comunque lo trovate sempre Nell'info box Di tutti i miei video Se volete essere più sicuri Perché non sono sicura Di averlo detto giusto Mettete un pollice in su Se questo tipo di video vi piace Inventiamoci un nome Non lo so Tipo commentate Perché volevo chiamarlo Tipo la posta di Sofia Ma un po' banale Quindi ci vuole qualcosa Di più caratteristico Con la posta della pizza Potremmo chiamarlo La posta della pizza Pizza Smei Vabbè non lo so Fatemi sapere Io vi mando un grosso bacio Ci vediamo al prossimo video Ciao